A 50 anni dall'inizio del dialogo tra i cattolici e i metodisti, Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano una delegazione del Consiglio Metodista Mondiale. Dialogo, ha detto il Pontefice, che incoraggia a incontrarci con umiltà e sincerità, desiderosi di imparare gli uni dagli altri. Fratelli capaci di camminare insieme, aprendo il cuore con generosità l'uno all'altro, riconoscendosi familiari di Dio, in grado di offrire una testimonianza più fedele al Vangelo. La fede, ha proseguito il Papa, diventa tangibile quando si concretizza nel servizio ai poveri e agli emarginati, che è chiamata la santità e la comunione. La strada che si apre, a concluso, è quella della riconciliazione. Non possiamo parlare di preghiera e carità se, insieme, non preghiamo e non ci adoperiamo per la riconciliazione e per la piena comunione tra di noi. Che il vostro lavoro sulla riconciliazione sia un dono, e non solo per le nostre comunità, ma per il mondo. Sia di stimolo a tutti i cristiani ad essere ovunque ministri di riconciliazione. E' lo Spirito di Dio che opera il miracolo dell'unità riconciliata. Sia di stimolo a tutti i cristiani ad essere ovunque ministri di riconciliazione.